e anzi vi ricordo l'iscrizione è gratis eh io mi diverto con voi voi vi divertite con me io dedico del tempo a voi e voi lo dedicate a me parecchi sono nascosti e guardano i video fai il click apri il coraggio di fare il click e di iscriverti perché qui è tutto gratis non ti arrivano fatture da pagare non ti chiamano i telemarketing non ti chiamano le signorine del call center qui non ti chiama nessuno è tutto gratis per gli interisti ci siamo capiti mi hanno detto gli essere una live hanno paventato anche l'ipotesi oltre i sauditi dei fondi americani non esiste nessun fondo americano nell'operazione di acquisizione che verrà fatto ovviamente eh dell'inter non esiste eh che mi hanno detto giusto ieri sera hanno parlato di anche di probabili fondi americani addirittura ancora Amazon non esiste nessun Amazon nessun fondo americano le stanno dicendo tutte all'in fuori e quelle giuste e continua a venire fuori questo il nome di Invest Corp io la chiamo Invest Corp in maniera eronica Invest Corp non fa altro e che raccoglie le fondi del Golfo del Golfo Perzio e raccogliono tanti capitali dell'Arabia Saudita lo abbiamo già detto no Bahrain Arabia Saudita ci sono venti chilometri di distanza quindi eh Inves Corp ha un raccoglitore di soldi da soli non possono fare nulla Inves Corp compra l'Inter ma di che cosa vuoi che compri Inves Corp da sola? Inves Corp può raccogliere dei soldi e fare delle operazioni ma da sola Inves Corp non fa assolutissimamente nulla come Mubadala Mubadala se vuole l'Inter la prende da sola non ha bisogno non ha bisogno di veicoli e quindi sono cose che abbiamo già detto poi ora noi a giorni faremo una live e spiegheremo benissimo in maniera dettagliata da dei professionisti che continueranno con la solita versione ma vi spiegheranno delle cose eh anche tecniche per quanto riguarda investimenti e Arabia Saudita quindi non c'è nessun americano non so chi ha parlato di americani ieri sera insieme ai sauditi leva gli americani perché non esistono sennò così è facile si spara a tutto non ci si espone mai no 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 non va bene quando dopo il Milani 5 a 1 ti ho detto perché io venni attaccato eh Giuse ora non dici più nulla sulla rosa e io dissi no guarda io sono ancora molto dubbioso su questa rosa anche perché eh ragazzi con quelli stappavano le bottiglie mercato da nove mercato da dieci mercato da undici cioè l'intera dolci parliamoci sinceramente io lo dicevo da prima purtroppo dell'infortunio di Arnautovic l'intera quattro attaccanti di cui due non danno nessuna garanzia fisica tra l'altro Turam sta studiando da centravanti non è un centravanti puro gli va dato un po' di tempo e e rimani solo con un attaccante tipo garantire trenta gol io queste cose le ho sempre dette non me le rimangio capito? Tra l'altro poi lo stesso Darmiana ti faccio un esempio la riserva di Pavar visto che il numero sette della Juve quello che era la Juve il ricciolone lì si è fatto male dopo tre scatti perché ha quarant'anni ed è bollito cioè Darmiana si è ritrovato a fare a a fare il vice in due ruoli barra tre vogliamo parlare di bisse che bisse che è un giocatore impresentabile a questi livelli tattivamente tattivamente acerbo non non lo puoi presentare in campo va messo su un pulmino e mandato a Torino da Juic due tre anni e poi forse va ripreso guardate miglioramenti a fatto di Marco con Juic a livello difensivo ma per migliorare devi anche giocare all'inter bisse che non è presentabile te lo dico io te lo dico dalla seconda volta che l'ho visto giocare perché non sapevo nemmeno che fosse bisse tra l'altro poi oltre a questo discorso che c'è eh che c'è una rosa diciamo mh assemblata con i pagherò tranne ma anche Pavar è un pagherò di quattro quattro rate anche Pavar cioè è una rosa assemblata con i pagherò e è una buonissima rosa per l'Italia però bisogna metterci anche senza fare gli zaghi out perché tanto io continuo sempre su quell'onda lì a me i zaghi come allenatore piace fino a un certo punto per un inter disastrata e livello economico come questa poteva andare bene ma te lo ripeto per l'ennesima volta per un inter che deve alzare il livello in zaghi non va bene perché è un allenatore che ha un'idea calcistica sola che se non va a mille diventa prevedibile e ti sei fatto palleggiare in faccia dal sassuolo tutto il secondo tempo o San Siro con settantamila spettatori mi dici di cosa vuoi ragionare analizzando le prime partite sembrava che in zaghi avesse preso un po' più di coraggio e invece no purtroppo mi ha smentito perché prendiamo barella come esempio grandissimo calciatore non si discute barella chi è che discute barella non io ma sta sta annellando una prestazione più brutta di un'altra giusto quindi eh l'allenatore lì con barella soprattutto ha dimostrato poco polso perché eh anche secondo me per una questione ambientale problema proprio di tipo dei tifosi capito lo doveva accantonare barella per una partita barra due e mettere frattesi che frattesi anche quando non brilla e non ti fa eh doppietta è un giocatore che a differenza di barella quando fa quelle prestazioni lì frattesi anche se non ti fa doppietta e non brilla in una partita a trecentosessanta gradi è comunque un centrompista che ti dà una solidità difensiva clamorosa il signor frattesi e dà un'intelligenza tattica ed una corsa qualitativa corsa qualitativa cosa intendo che è uno dei puoi centrompisti e non corre mai a vuoto a differenza di barella che spesso vaga per il campo non sa dove andare te lo ripeto non sto discutendo barella come calciatore sto discutendo le prestazioni è diversa quindi davanti c'hai due giocatori presentabili e non hanno garanzia fisica c'hai un attaccante solo perché Turam sta studiando da attaccante comunque qualche gollettino Turam l'ha fatto diciamo e ad oggi comunque il suo lo sta facendo Turam vogliamo dire qualcosa a Turam quindi centrocampo hai hai comunque più scelta rispetto all'anno scorso ma ha comunque Aslani dove un ragazzo in cui lui non crede perché secondo me lo sta bruciando dopo una brutta prestazione che devi dare subito maniera di rifarsi al ragazzo lui cosa fa insiste su Cialanogua che lui ormai trentenne che viene da un infortunio lo mette titolare contro l'impoli invece di rimettere Aslani quindi Aslani su cui non crede a classe a classe che che senso ha farlo giocare sette minuti perché da quando è arrivato ha giocato sette minuti insiste su Mkhitaryan a trentacinque anni a fargli giocare tutte le partite anche lui non è un cyborg quindi vedi e poi alla fine l'Inter ha tirato su senza soldi una rosa competitiva ma io i mercati da otto nove dieci li metterei da una parte non entriamo poi nel discorso tattico dell'allenatore che è un monocorda lui gioca solo ed esclusivamente in quella maniera quando si è fatto male a Arnatovic tanti di voi mi hanno scritto Giuseppe Draghi ora giocherà con una punta a due sottopunte no io ho detto giocherà ancora con due punte perché l'ha fatto anche l'anno scorso quando aveva solo due punte disponibili Lautaro e Dzeko e ha spremuto con un limone un trentasettenne tutte le partite non ha mai cambiato modulo non mi rimangio quello è Dio l'ho detto anche dopo il derby che stiamo seguì dopo il 5 a 1 e tutto il mondo era era lì che stava stappando le bottiglie tutto il mondo interista ovviamente anche bastoni real società non sto discutendo il calciatore io sto analizzando le prestazioni bastoni real società Eppoli dove da quella spinta rigore non c'era siamo tutti accordi ma Eppoli da quella da quello spintone che se fischia non era proprio te lo ripeto per me non c'era rigore però anche lì vuol dire che sei poco lucido perché spinto l'aria in aria in quella maniera diciamola così l'è rischiuso va bene quindi anche bastoni la società è vero hanno fatto schifo tutti Eppoli prestazione male Sassuolo prestazioni orribili anche lì c'hai Carlos Augusto lo sapete che per me è un grande giocatore lo dico da prima che eh eh andasse in orbita inter questo giocatore qui non lo puoi far giocare titolare più di tanto perché perché hai di Marco e gioa a 60 minuti quindi te bastoni bastoni alla fine non lo puoi far riposare più di tanto perché Carlos Augusto di Marco 90 minuti insieme non li puoi tenere perché di Marco lo devi togliere a sessantesimo quindi cosa devi fare devi togliere di Marco Carlos Augusto devi togliere il braccetto metterlo tutta fascia e rimettere bastoni lì quindi non può riposare nemmeno bastoni perché anche secondo me bastoni deve riposare cioè capisci ti voglio dire Salernitana meno male non gioca di A siamo fortunati perché non gioca di A che è un centro avanti e se non è che perché per le aratristi era poteva darci noia perché a noi quei giocatori lì ci danno noia per come siamo strutturati noi a livello difensivo la Salernitana squadra allenata dal portoghese Paolo Sosa una squadra che gioca a Baricento altro ma attenzione alla Salernitana è una squadra che non devi tenere in vita fino al novantesimo abbiamo fatto con Nempoli perché con la Salernitana rischi molto di più rispetto al Nempoli quindi la Salernitana devi cercare di vincerla e di chiuderla perché se li tieni in vita fino all'ultimo sono molto ma molto pericolosi hanno questa aratristia qui il loro ma ricentro altro ti vengono a prendere ti spingono spingono tutta la partita giocano a viso aperto uno contro uno non hanno paura se li tieni in vita come contro l'Empoli è molto ma molto pericoloso ci becchiamo più tardi ciao